Buongiorno, buongiorno. Facciamo un bel profondo con le braccia. Bene, oggi facciamo un incontro velo più, cerco di parlare meno possibile. Quindi non parliamo molto oggi. Quindi possiamo arrivare più in i nostri corpi, più in questa pratica e rilassiamo le nostre menti un pochettino. Questi incontri continueranno per tutto giugno. Torniamo a lunedì mattina e poi facciamo una pausa luglio ed agosto. Magari ridefiniamo come continuare a settembre. Ci pensiamo, possiamo dialogare su questo. So, I'll let these lessons will continue throughout June, on Monday morning. And we're gonna have a pause in July into August. And then let's see how these sessions will continue. If you have some ideas, let me know! So, in July and August, perhaps you could do some small groups or individual sessions, or perhaps you could even come and visit me, visit us here. Anyway, let's start with the practice. I'm not going to talk, I'm going to talk very little. Parlo molto poco. Ascoltiamoci bene, ascoltiamoci. So we're gonna really listen to what we're doing. We've only realized that, you know. I've not seen this before. Not only��ами in signori, but not everyone. But I can see all tends, Marietta Frans blinkis. Grazie a tutti. 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 dolcemente su come back up gently come up to standing I'm just going to very slowly walk around our chair Air change, cambiamo direzioni Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Per 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 il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti. 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 a tutti. e a tutti. non tutti. a tutti. a tutti. a tutti. scrivete a tutti. 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 serena. tranquilla. lenta. quando ci facciamo prendere da là. stiamo tranquilli. quindi quando siamo fatti e siamo all'excito proviamo a venire, e questo non è facile per me questo non è facile per me niente che sono un tipo dinamico però mi fa molto bene stare tranquillo quindi sono un personale sempre in movimento quindi questo tipo di pratica questo tipo di pratica è molto bene per me to slow down a little bit so però se siamo lenti e ogni tanto facciamo qualcosa più veloci, sempre cercate l'equilibrio quindi alla prossima lunedì, lunedì alle nove quindi tra pochi giorni e a presto